Non c'è più nulla di penalmente rilevante nelle intercettazioni captate dalla squadra mobile di Messina che raccontavano chiaramente di mazzette e favori, di legami tra politici, avvocati, costruttori e burocrati per dare corso all'affare edilizio del complesso Green Park sul torrente Trapani. La Cassazione ha dichiarato prescritte tutte le condanne del troncone centrale dell'inchiesta sul piano regolatore di Messina in piedi era rimasto praticamente solo lo scandalo rogrigio a 11 anni dalle indagini sfociate nel 2007 anche nei due arresti eccellenti di Umberto Bonanno e Pucci Fortino dell'operazione che fece tremare Palazzi da Messina a Palermo adesso non c'è più traccia se non un rinvio in sede civile dei provvedimenti di risarcimento danni stabiliti qualche anno fa per i promissari acquirenti degli immobili l'ammontare totale dei risarcimenti era di oltre un milione di euro di cui una parte in acconto provvisionale tra le parti civili per cui era stato stabilito il risarcimento c'era anche il WWF adesso praticamente si ripartirà quasi da zero intanto dopo la conferma incassazione del sequestro dell'edificio Palazzo Zanca dovrà gestire quel mostro incompiuto che ha scavato le colline del torrente Trapani dove ancora oggi si continua a costruire nonostante al primo acquazzone siano tornati a venire giù veri e propri fiumi di fango nonostante al primo acquazzone 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 sperdo che Unterschiede